ciao bentornati su un come in questo nuovo video vi mostreremo un tutorial di pasti base di twerk si tratta di una coreografia che potrete imparare facilmente guardando questo tutorial buona visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti speriamo che il video vi sia piaciuto non dimenticate di mettere like, commentare e iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei nostri video alla prossima grazie a tutti